Kate Middleton Kate Middleton, parla la sua stilista, determinata e versatile Tra le tantissime doti della principessa più amata del mondo, Kate Middleton, c'è anche quella di apparire in pubblico sempre perfetta, qualsiasi sia l'occasione. Il suo segreto? Un gusto infatto di moda davvero determinato e preciso, ma anche versatile La parola ad Alice Temperley, stilista personale della duchessa. Kate Middleton, Alice Temperley la conosce e come le sue tasche . Ogni volta che Kate Middleton deve presenziare a un evento molto importante per la Casa Reale inglese, non ultime le numerose tappi dei viaggi di Stato che l'hanno portata di recente tra Polonia e Germania, lo fa nel modo più elegante che esista al mondo La principessa ha gusti determinati e versatili, e non lo dicono soltanto i sudditi che amano ammirarla e copiarla nei suoi vari look, ecco cosa pensa della duchessa di Cambridge una persona che la conosce davvero come le sue tasche e visto che è proprio lei a cucirle Stiamo parlando di Alice Temperley, la stilista personale di Kate Middleton che, da oltre sei anni, la vede arrivare nel suo negozio e scansionare accuratamente gli abiti da lei confezionati finché i regali occhi non si fermano sul capo giusto E' successo un anno fa, quando William e Kate si stavano preparando per un viaggio in India, ha passato in rassegna tutti i vestiti che erano esposti Ha raccontato la giovanissima stilisti in una recente intervista e alla fine ha fatto la sua scelta, il capo era elaborato, adatto a un'occasione formale In questo caso, stiamo parlando di un tubino bianco con finissime decorazioni dal sapore orientale in acceso blu cobalto, colore molto amato dalla principessa. Lo charme di Kate, in quell'occasione, è unico. Come sempre, dobbiamo dire. Secondo la temperley, però, la mamma di George e Charlotte e futura mamma Tris non è solo attenta ai dettagli per le occasioni più ufficiali, dove deve portare alto l'onore e l'eleganza della monarchia d'Inghilterra No, Kate è versatile e sa essere elegante e chic anche quando indossa qualcosa di più comodo, se non addirittura di sportivo, come accaduto, per esempio, alla Maratona di Londra A chi assomiglia la duchessa in questi aspetti? È versatile e proprio come Diana afferma senza alcun dubbio Alice, che ricorda quanto sia stata iconica la figura della mamma di William anche in campo di moda Al pari di Jackie e Kennedy per l'America e Grace Kelly per Monaco. E ora? Per l'Inghilterra c'è Kate Middleton Kate Middleton e il look per la terza gravidanza. Kate Middleton è riuscita a mascherare piuttosto bene la sua terza gravidanza grazie a look disegnati su misura per lei Il segreto? Alzare un po' di più il punto vita senza esaltare troppo le linee, con abiti dal design più morbido, come abbiamo visto durante l'ultimo viaggio di stato E per la gravidanza precedente? Alice Temperley ci aveva messo lo zampino, realizzando per la duchessa una maglia total black con eleganti decorazioni traforate, uno dei look più fotografati mentre era in dolce attesa di Charlotte Ora, tutti i sudditi attendono con gioia di rivedere la loro principessa di nuovo in piena forma e in pubblico, che abiti adotterà per questo terzo attesissimo pancione? Ciao! Ciao! Ciao!